Direttore Carpino in ordine di tempo è l'ultimo comune in provincia di Foggia diventato comune sostenibile. Sono tanti i comuni della Puglia ad aver aderito già in pochi anni all'associazione Rete dei Comuni Sostenibili, circa 18, di cui 9 in provincia di Foggia, l'ultimo che è arrivato grazie agli amici dell'associazione per il meglio della Puglia è il comune di Carpino. Carpino ha scelto di intraprendere ancora con più forza il sentiero della sostenibilità, che significa prendersi cura della qualità di vita delle persone e dei territori, un benessere inteso non solo in senso ambientale ma anche economico e sociale. È un percorso questo che è caratterizzato da tante opportunità anche di finanziamento per accompagnare questo processo nei confronti della tradizione ecologica, energetica e digitale del paese. Come Rete dei Comuni Sostenibili noi siamo un'associazione che vogliamo essere uno strumento per migliorare i comuni. Accompagniamo le realtà locali nella messa a terra dei grandi obiettivi di Agenda 2030 e aiutiamo sindaci e amministratori a passare da una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata attraverso un progetto concreto e servizi utili che possono andare a migliorare la qualità di vita delle comunità locali. Siamo sicuri che con Carpino faremo un lavoro straordinario e siamo contenti. ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale e l'intera comunità per essere entrati a far parte della grande famiglia italiana della Rete dei Comuni Sostenibili. Il ruolo dell'Associazione per il Meglio della Puglia? Allora dunque come per i precedenti comuni un ruolo di mediazione, di intermediazione, di contatti in ragione di un protocollo che noi abbiamo sottoscritto come per il Meglio della Puglia con la Rete dei Comuni Sostenibili due anni fa. A distanza di due anni abbiamo quasi dieci comuni della Puglia Alta e da ultimo Carpino che tra pochi minuti riceverà la bellissima targa dei comuni sostenibili ma al di là della targa inizierà un percorso poliamministrativo se vogliamo, di monitoraggio dei valori, della sostenibilità e è una cosa quale noi crediamo molto. È una pagina della storia politico-amministrativa di Carpino assolutamente importante. Noi amministratori di oggi vogliamo scrivere questa prima pagina speriamo di un grande libro, un libro di attività amministrativa del nostro comune che va proprio nella direzione, negli obiettivi di Agenda 2030 e quindi noi siamo convinti che già la nostra azione amministrativa si riconosce in quelle finalità e in quegli obiettivi ma vogliamo sensibilizzare ulteriormente la classe dirigente e le giovani generazioni per le quali noi tutti lavoriamo. Quindi io devo ringraziare davvero l'Associazione dei Comuni Sostenibili d'Italia per aver accolto l'istanza alla richiesta di Carpino. Per noi è una sfida, è una sfida che lanciamo a noi stessi perché vogliamo sottoporci a delle critiche importanti rispetto al nostro operato. Nelle campagne di Ostuni i campi vengono irrigati dall'acqua domestica purificata dall'impianto di Acquedotto Pugliese. Perché per noi sostenibilità non è una parola, è una pratica quotidiana.